Mi ripresento, sono Marcello Levi, ci conosciamo già per tutti quelli che hanno seguito i webinar precedenti in questo ciclo di formazione, ci conosciamo già e oggi andremo ad affrontare il modulo intermedio del corso intermedio appunto, il giorno 2 del corso intermedio e cominciamo a parlare di interni remoti e nello specifico cominciamo a parlare di interni remoti in modalità STUN. Che cosa sono gli interni remoti in modalità STUN? Sono interni i quali sono specifici telefoni IP che vengono approvvigionati e registrati sul centralino provenienti da una rete esterna al centralino stesso, quindi proveniente da internet pubblica. Per poter fare ciò che spiegherò nei prossimi minuti è però necessario avere già un centralino predisposto a consentire connessioni verso il pubblico. In particolare è importante avere già affrontato il discorso, come abbiamo affrontato nel webinar apposito, della configurazione del proprio firewall, altrimenti se il firewall è chiuso io non avrò la possibilità di poter collegare un soggetto esterno da internet verso il mio centralino stesso. Se qualcuno di voi se lo ricorda, mi auguro di sì. Le porte necessarie per l'utilizzo di un interno remoto STUN, apparato SIP standard, sono quelle del range SIP, cioè porta SIP configurata all'installazione, default 50-60 in entrambi i protocolli, range di porte RTP solo in protocollo UDP, dalla 9000 alla 10999. In più, dato che comunque parla SIP puro, ma si collega con il centralino e scarica tutta una serie di informazioni dal centralino, tutte queste avvengono attraverso la porta HTTPS, anche questa porta scelta al momento dell'installazione, default 5001 per il suo protocollo TCP appunto. Questo io lo do per scontato, il centralino sappiamo avere già un firewall che consenta questo, oppure è un'istanza cloud, nell'istanza cloud di solito è già così, sicuramente quelle aperte come abbiamo visto ieri con il BBX Express. Ok? Bene, altra condizione necessaria affinché ciò che io adesso vi spiegherò possa avvenire nelle modalità con cui io ve le spiegherò è che il telefono sia uno telefono marca, modello e con firmware specificatamente supportato e raccomandato da 3CX. Quindi, mi raccomando, andate sulla pagina web di solito, se è un telefono nuovo, la maggior parte dei vendor appiccica un adesivo sulla scatola dove vi è riportato il MAC address e il firmware a bordo del telefono. Se così non fosse o è un telefono vecchio di cui non sapete lo stato di aggiornamento, resettatelo, avviatelo in la rete locale, guardate dal suo menu il firmware che ha a bordo e provvedete attraverso la procedura della casa produttrice ad allinearlo al firmware richiesto da 3CX. Nel momento in cui ho un telefono IP di marca e modello supportate con il firmware raccomandato, sono sicuro che la procedura di provisioning che adesso andrò a descrivere funzionerà senza problemi. Infine, condizione necessaria perché tutto fili liscio, anche il fatto che ci sia l'account di SMTP correttamente funzionante. Questo di solito non è più un problema perché comunque 3CX mette un account SMTP attivo di default per tutte le licenze standard, quindi se anche io ho una licenza pro enterprise e sto tentando e ho difficoltà a utilizzare un mio account SMTP, nel peggiore dei casi si switcha su quello e vado. L'importante però è che io vada su impostazioni email del mio centralino e faccia il test e veda che le mail vanno, ma in generale forse me ne sarò già accorto se sono già arrivate le mail di benvenuto per l'account creato all'installazione, eccetera. Quindi se le mail vanno bene, anzi, devono però andare. Può essere necessario, non lo è sempre, ma spesso, dover per anche intervenire sul firewall dell'apparato dall'altro lato della mia connettività, cioè quello che è il firewall presente nella rete dietro al quale si troverà il telefono, che abbiamo detto essere remota rispetto alla rete dietro al quale c'è il centralino. Ok? Può essere necessario, non lo è sempre, dipende, però diciamo che se soprattutto dall'altra parte so essere un ufficio aziendale con una connettività business e una sua infrastruttura IT con un firewall, allora dovrò comunque accertarmi di poter avere accesso a quel firewall. Ok? Quali sono i telefoni che noi supportiamo? In rigoroso ordine alfabetico, Fanville, Grandstream, però valido solo per i nuovi modelli. Se voi andate sulla pagina dei nostri telefoni supportati, troverete, i vecchi Grandstream fanno parte della categoria Legacy, per i quali non vale l'approvvigionamento via Stun. Ok? Quindi Fanville, Grandstream nuovi modelli, H-Tech, Esno, Media Link. Ok? Quali sono i vantaggi della scelta di approvvigionare un telefono in questa modalità? Bene, innanzitutto, secondo me la cosa principale, non devo avere nulla nella rete remota, non è richiesto nessun hardware. Il telefono collegato al plug della rete del mio ufficio remoto va a lui su internet e va a lui a registrarsi presso il mio centralino. In particolare, se siamo nelle condizioni di cui stiamo parlando adesso, lo farà anche automaticamente, adesso vedremo come. Registrandosi via internet sul mio centralino, poi, significa che le chiamate verso gli altri interni, che siano in rete locale con lui, o che siano in sedi remote, altre sedi ma registrate sullo stesso centralino, verranno comunque trattate come interni remoti, come chiamate fra interni e quindi gratuite. Cioè, se io ho la sede commerciale americana, dove ho un agente e una segretaria, e io gli spedisco là due telefoni, ok, e loro se li collegano alla rete e si registrano sul mio centralino, le chiamate da e per quegli interni sono gratis, sono considerate chiamate interne, ok, anche se loro sono negli Stati Uniti. Quando loro chiameranno, potrò avere delle regole per cui, se chiamano in Italia, perché chiamano un cliente, un fornitore italiano, escono dal mio trunk, del mio centralino italiano e fanno dall'America una chiamata Italia su Italia, e quando io chiamo l'America, magari, se ho registrato un trunk americano sul mio centralino, per dare servizio all'ufficio americano, lo posso usare anch'io dalla mia sede italiana per uscire America su America e azzerare le chiamate internazionali. Capite come si riesce a scalare, a moltiplicare i vantaggi economici grazie a voi? In più, abbiamo detto appunto, il fatto che c'è una possibilità di una configurazione diretta, automatica dei telefoni, tali per cui io li posso spedire direttamente, senza dover intervenire su di loro. Vediamo come. Io vado sul, diciamo, di avere, di essere in possesso di un telefono, marca e modello supportato, con il firmware raccomandato. Mi arriva la scatola del mio, l'ho comprato, dal mio distributore della tal marca, e mi arriva il telefono. Io posso anche, se sono queste le condizioni, non aprire la scatola. Io leggo quello che c'è scritto sopra, vado su un, sull'interno a cui voglio assegnare questo telefono, aggiungo il telefono, aggiungendo il telefono, scegliendo nella menu a tendina la marca, il modello, gli vado a inserire il MAC address, ok? È il primo telefono in assoluto che vado ad assegnare a questo ufficio remoto? Benissimo, lascio il default, perché io vedo che nel momento in cui scelgo come modalità di approvvigionamento interno remoto STUN, la mia pagina cambia schermata e mi presenta dei nuovi campi, fra cui c'è porta SIP e porta RTP. RTP, attenzione, sono le porte SIP ed RTP che il telefono prenderà come propria configurazione interna, ok, e che comunicherà nel proprio register, nel proprio invite, ok, per essere usate dalla sua rete remota verso il centralino, cioè non sono porte che io devo aprire sul mio centralino, sul firewall del mio centralino, queste le ho già aperte abbiamo detto e sono la 50, quella che ho scelto SIP default 5060 e il range 9000 e 10999, devo dire a ciascuno dei miei telefoni remoti quale porta SIP e quale porta RTP userà lui sul suo indirizzo pubblico, sulla sua rete remota, ok? Queste sono le porte di cui stiamo parlando. Quando poi avrò uno scenario in cui dalla stessa sede remota, immaginiamo che questo è il mio router di un mio ufficio remoto rispetto a internet, avrò più telefoni, quindi la sede americana dicevamo agente e segretaria ne ho due, ma potrei averne tre o quattro, ok, o anche di più, anche se per più di questi numeri conviene poi passare a usare l'SBC. dicevo, a partire dal secondo telefono in poi, che io so uscire dalla stessa connettività, perché il problema si pone proprio quando ho più telefoni dietro la stessa rete remota e che quindi raggiungono il mio centralino dallo stesso IP pubblico, ok? Quando sono in queste condizioni, a partire dal secondo telefono che andrò ad aggiungere, dovrò ricordarmi di aumentare, scalando verso l'alto, le porte SIP ed RTP per ciascuno di questi telefoni. Faccio un esempio. Il primo telefono mi viene presentato come porta SIP 5060 range UDP 14000-14000-09, benissimo. Do ok perché è il primo e lo lascio ai valori di default. Il secondo, nel momento del telefono che vado ad aggiungere, mi verrà proposto con lo stesso range di default. Faccio aggiungi interno remoto STUN e mi verrà anche lì 5060-14000-14000-09. Ecco, dovrò ricordarmi, è il secondo telefono della stessa rete remota che sto andando a configurare in parallelo al primo. dovrò ricordarmi di aggiungere, di modificare la porta SIP e modificare il range di porte UDP. Adesso credo che il default sia 5065 a partire dalla prima, proprio per evitare su tutti i router il più possibile l'uso della porta 5060. Quindi se io al primo ho 5065-14000-14000-19, vediamo il caso di questo esempio qua, sul secondo io ci metterò 5066-14000-20000-39000, un eventuale terzo telefono ci metterò 5067-50000-40000-59000 e via andare. Avete capito? Aumento le porte SIP ed RTP in modo tale che quando questo telefono attraverso internet pubblica si arriverà a registrare presso di me, comunicherà che per le registrazioni SIP lui usa il suo IP pubblico qui poniamo 20-25-30-35 e due punti 50-65. Quando questo si registra, comunica di stare usando 20-25-30-35 e due punti 50-66. Se avessi lasciato anche qui 50-65, quando poi il centralino va a rimandare a lui la segnalazione SIP indietro su quella porta, il router potrebbe, se nel frattempo ci sono rubati le registrazioni a vicenda, potrebbe far suonare un telefono invece dell'altro. Qual è il comportamento classico che avviene quando si fa questo tipo di configurazione e non vado a cambiare le porte? Io ho creato l'ufficio americano, ho messo online tre telefoni, li vedo registrati, chiamano, ci parliamo, però poi ho fatto gruppo suoneria ufficio america, ma quando chiama suona suono l'uno, una volta l'uno, una volta l'altro, una volta l'altro ancora. Perché? Perché quando lui va a mandare il messaggio di invite, invita sulla porta 50-65 e in quel momento lì ce n'è registrato uno che ha appena rubato la registrazione dell'altro sempre sulla porta 50-65. Se invece io avessi uno su 50-65, uno su 50-66 e uno su 50-67, il centralino farebbe tre invite, uno sulla 50-65, uno su 56 e uno su 67 e suonerebbero tutti e tre. Per fare questo, quindi innanzitutto lo devo fare nella mia configurazione, può essere poi, dipende dal tipo di apparato e dal tipo di rete che ho nella sede remota, può essere necessario la creazione di NAT sul firewall remoto che mi fa puntare alla porta dei telefoni. Quindi per rispondere anche alla domanda, sì, se dall'altra parte c'è un firewall, se è una connettività casalinga, di solito no. Se però è un ufficio con un firewall e una rete un pochino più strutturata, può essere necessario. Dovrò fare in piccolo, ma replicato n volte, tutto il lavoro che ho fatto anche per il firewall del mio centralino. Cioè dovrò fare un NAT che mi dice che la 50-65 UDP e TCP mi va verso l'IP locale del mio telefono 1. Così come il range di porte 14.000-14.19 in UDP. Poi, nuova regola, porta 50-66 verso l'IP del telefono 2. Così come il range di porte 14-20-39 in UDP. 50-67 telefono 3, eccetera. Quindi dovrò replicare questo set di regole in ingresso, inattarle, verso i rispettivi IP locali. Li ho approvvigionati molto facilmente senza dover impostare nulla sulla rete locale a livello di apparati. Però devo intervenire sul firewall e lavorare un po' di più. Lo posso fare se ho uno, due, tre telefoni. Quando comincio ad avere quattro, cinque interni, il mio consiglio sarà di passare all'SBC. Di cui però parleremo nel prossimo modulo. che ha dei vantaggi. Diciamo che questa è la modalità ideale per il telelavoratore o la piccola realtà che ha due, tre, quattro telefoni. Ok? Per quanto riguarda un discorso di bridge centralini, io vi rimando più avanti quando parliamo di questi argomenti. Stiamo parlando di interni remoti. In generale, comunque, le sedi, in modalità STUN, io le consiglio fino a due, tre telefoni. Oltre, dal quarto, sicuramente dal quinto in poi, l'SBC è un netto vantaggio. Ha un svantaggio, ma ha tutta un'altra serie di vantaggi. Quindi, al termine di questo doppio modulo, avremo gli strumenti per valutare pro e contro di entrambi. Comunque, diciamo che questa è la soluzione ideale per quelle realtà con pochi interni. Ok? Tipicamente, il telelavoratore, il piccolo ufficio commerciale con due, tre interni, cose di questo genere. Fatto l'opportuno lavoro sul firewall della mia sede remota, vado a mandare la welcome email al mio interno. Quindi, almeno in fase di approvvigionamento, dovrò creare una mail, inserire una mail, quindi non potrò fare qui un interno sala riunioni. Gli dovrò comunque mettere una mail, ok? Bene. In quell'interno dovrà avere una mail configurata. A questo punto, i telefoni, posso prendere il telefono e chiamare il mio corriere di HL, Bartolini, SDA, quello che preferite, e lo vado a spedire negli Stati Uniti. Il telefono è rimasto chiuso nella scatola, ok? Io non l'ho aperto, è un marca, è un modello, e ho letto avere il firmware corretto, ok? Se è nuovo, è dentro la scatola, so che è supportato e ha il firmware richiesto. Benissimo. Non lo sto neanche ad aprire dalla scatola. Lo spedisco direttamente là. Oppure addirittura, se l'ha comprato lui, magari negli Stati Uniti costa pure meno, e mi ha dettato Mac address e ha verificato che il firmware sia quello corretto. A questo punto io non ho neanche toccato il telefono, neanche dal di fuori della scatola, e ho solo inserito, ok? Lo dico perché vedrete che c'è quasi una magia dietro. Una parentesi su che cos'è lo STUN. Session Transvertis Utilities for NAT è un acronimo che sta al fatto che è una procedura attraverso il quale chiamando un, andando in uscita dall'interno di una rete inattata un apparato all'interno di un IP privato, va a fare una connessione su un IP pubblico di un sistema che gli fa da server, in questo caso, e grazie ai dati che si scambiano, questo è in grado di ricostruire tutti i passaggi e quindi di fare in modo che la connessione fra questi due apparati abbia in chiaro gli indirizzi IP. Sostanzialmente è in grado di far percorrere i dati anche nel percorso inverso. Sostanzialmente io da un IP locale vado verso un IP pubblico e se questo è un server STUN dopo ho tutte le informazioni per poter dall'esterno essere nuovamente raggiungibile in ingresso al mio IP locale. Ok? Questo è l'utilità del servizio STUN. Quando sto parlando di un 3CX configurato correttamente con IP pubblico statico e firewall configurato correttamente è il 3CX stesso a fare da STUN server. Quindi il telefono quando uscirà su internet punterà al centralino e il centralino stesso sarà in grado di ritornare indietro verso di lui perché è il centralino stesso a fare da STUN server. Questa è una pillola chiamiamola così tecnologica su come funziona anche il sistema. Abbiamo fatto il primo passo abbiamo preso il telefono non l'ho neanche toccato anzi addirittura mi ha chiamato il mio collega dall'America che mi dice ho comperato il tal modello di telefono che è supportato io so avere a bordo questo firmware me lo configuri per me benissimo sono andato sul console di gestione il mio collega americano aggiungi telefono marca modello mac address ho scelto le varie impostazioni tipo le BLF la lingua del display il fuso orario me lo sono tutto bello configurato se è l'ennesimo telefono di quella rete remota ho incrementato le porte in modo da evitare sovrapposizioni e do ok ok benissimo gli mando una mail e al mio collega John Smith gli dico John guarda il telefono è stato configurato quando vuoi collegalo alla rete e e accendilo pure il mio collega John Smith mi guarda magari legge la mail un po' stupito perché dice ma come il telefono è nuovo nessuno cosa dovrò fare lui lo collega alla rete ed ecco che come per magia il telefono fa tutta una serie di lavori mentre fa il booting per la prima volta e mi chiede login e password si è già preso la configurazione ripeto nessuno ha toccato il telefono ok sembra quasi una magia cosa deve inserire John Smith per poter completare la configurazione poter da quel momento cominciare a fare telefonate verso l'interno del stesso centralino come username dovrà usare il suo numero di interno e come password il pin della sua voicemail ma dove lo prende il pin della sua voicemail lo prende nella mail di benvenuto che ha ricevuto quando è stato fatto il suo interno ok lì è in chiaro lì c'è proprio scritto che il tuo voicemail è questo di solito è un codice di default quattro cifre ok mi raccomando attenzione lo vedete qui evidenziato in verde questa credo che sia un'interfaccia di uno snom verificate quando spiegateli bene che lui deve stare attento ad avere la digitazione in campo cifre non in abc ok vedete che qui c'è la possibilità di switchare da uno all'altro ok lui deve essere sicuro che uno se deve scrivere 029 non scriva 0 A W ok deve scrivere in cifre quindi in verde lì ci devono essere però tutti i telefoni è così la possibilità di scegliere di switchare fra tastiera numerica e tastiera di lettere una volta che ha scelto tastiera numerica digita il numero di interno e il voicemail pin e automaticamente il telefono è in grado di funzionare come John Smith ma come ha fatto? chi ha detto al telefono di questa marca e di questo modello che doveva venirsi a registrare da me e a prendersi determinate impostazioni non solo si accenderanno le spie del BLF che gli ho scelto io avrà il fuso orario che gli ho impostato io avrà tutte le impostazioni che ho scelto io in fase di creazione di quel telefono ma come è stato possibile questo? questo è stato possibile grazie al servizio RPS Remote Provisioning Service che è un servizio che stanno messo in campo dai vendor da noi supportati non solo loro anche altri ma già sta diventando uno standard noi siamo fra i primi ad averlo adottato soprattutto con 5 marche diverse e come funziona nella pratica quando io amministratore di sistema vado sulla mia console del centralino e aggiungo il telefono della marca modello supportato mac address tal dei tali all'interno tal dei tali con tutte le impostazioni conseguenti quindi BLF range di porta RTP eccetera eccetera e do ok il centralino questa informazione la manda al server RPS del vendor server snom per snom ialink per ialink franvil ht grandstream ognuno ha un suo server il centralino lo sa perché fa parte di una serie di informazioni che fanno parte del setup del nostro centralino quindi loro vanno a comunicare una informazione al server del vendor che gli dicono guarda che è stato configurato presso di me il modello della tua serie tal dei tali mac address tal dei tali quando questo telefono ovunque sarà nel mondo si avvierà tu mandalo da me a questo link e gli passa al provisioning link al server RPS tutti i telefoni nuovi o con firmware recente per quello che non può essere una modalità portata sui vecchi telefoni ok o con i vecchi firmware tutti i telefoni nuovi da noi supportati e con firmware recenti quando fanno il boot ancora prima di terminare la loro fase di avvio proprio a livello di firmware elementare la prima cosa che fanno è essendo collegati a una rete dal quale è previsto che possano uscire verso internet andare a bussare la porta al proprio server RPS e dire ciao sono questo modello e ho questo mac address qualcuno nel mondo sai se c'è un file di provisioning pronto per me sì certo guarda ieri mi ha scritto un server di un centralino marcello.3cx.it vatti a prendere il tuo file di provisioning a a questo indirizzo c'è questa negoziazione a quel punto lui gli passa le informazioni e il mio telefono ip viene a bussare https marcello.3cx.it slash provisioning slash stringa casuale eccetera eccetera a me cadres e gli dice sono questo telefono mi hanno detto che hai un file di configurazione caldo caldo per me è vero certo lui controllerà se effettivamente il telefono è uno che è stato mappato su lui certo eccolo qui bene ma come faccio io telefono a fidarmi che tu sei veramente quello che dici di essere al tuo link marcello.3cx.it hai un certificato ssl che garantisce che tu sia quello che dici di essere ma certo questo è il mio certificato garantito delle ente autorevole tal dei tali nello specifico per i nostri Let's Encrypt Let's Encrypt fa parte dei certificati autorevoli che la marca dei telefoni e quindi il telefono stesso ha inseriti internamente come certificati autorevoli sì benissimo allora io dico che il tuo file mi va bene me lo scarico lo applico in quel file c'è scritto che lui per poter sbloccare e portare a termine la configurazione viene richiesto un login e password questo perché se questo telefono la scatola di questo telefono cascasse dal camion lungo la strada fra me e l'ufficio americano e qualcuno lo raccoglie e lo attacca automaticamente è John Smith no il telefono per poter essere per diventare automaticamente John Smith ha bisogno di un'autenticazione fisica sulla tastiera stessa e chi la può fare è John Smith che sa il suo numero di interno e la sua mail voicemail pin avete capito come funziona il triangolo? io configuro agendo web based sulla pagina web di 3CX 3CX invia l'informazione ai server del venditore i quali la tengono in archivio qualora quel telefono si avvii e ne faccia richiesta quando il telefono si avvia ne fa richiesta lui gli passa il provisioning link è il telefono stesso a venire a bussare alla porta e a scaricarsi il file di configurazione tutto questo avviene nell'arco di non dico millisecondi ma parliamo di centesimi di secondi se io sono in sede remota e ho il telefono sulla scrivania e faccio questa procedura lo vedo approvvigionarsi nel momento stesso nel quale si accende ovviamente devo averlo prima aggiunto qui ok ma nel momento in cui l'ho aggiunto qui e lo riavvio lui tutto questo succede ha un effetto collaterale questo chi di voi dovesse aver per caso provato questa bondalità forse si è accorto che poi se dopo accedo alla pagina web del telefono localmente sono nella mia rete remota accedo a 192 168 1010 e vado all'interfaccia web del telefono vedo che il campo provisioning link di quella marca del mio telefono è compilato correttamente con marcello.3x.it eccetera e tutto quanto ma è in grigio non editabile quindi se io lo dovessi per qualunque motivo modificare non ci riesco resetto il telefono da nuovo beh sai cosa lo resetto di nuovo e lo non faccio io metto a mano lo resetto di nuovo riparte la procedura lui di nuovo viene a chiedersi a chiedermi il file di provisioning di nuovo lo rimanda a dire allo stesso punto di prima e il telefono si riavvia di nuovo con lo stesso quindi non riesco a uscire da questa situazione se per qualche motivo dovessi farlo questo è vero nell'arco delle prime due settimane da che il telefono è stato creato aggiunto sul mio centralino originario cioè io lo attivo qui andando a inserire il meccadress del mio telefono sul mio centralino invio l'informazione al mio vendor il quale si tiene lui in memoria questa informazione per due settimane significa che se questo telefono dovesse avere un problema nella mia spedizione e arrivare negli Stati Uniti dopo tre settimane perché ci ha messo troppo tempo dovrò rifare di nuovo l'assegnazione mi chiamerà il mio collega e dice guarda mi è arrivato oggi ah cavolo sai che te l'ho attivato tre settimane fa a fine agosto allora quasi qua adesso te lo ricreo perché altrimenti non va come dire un refresh e di nuovo ripartirà perché dopo due settimane la cosa si sblocca quindi significa che se avete degli interni remoti Stun già attivi da mesi li potete riprovvigionare senza nessun problema se questo telefono che avete approvvigionato su un cliente demo la settimana scorsa lo volete spostare su un altro cliente demo lo potete fare se anche nel secondo cliente sarà a sua volta sempre un interno remoto Stun perché nel momento in cui io vado a creare una nuova associazione nel quale vado a comunicare al mio server RPS un nuovo centralino di destinazione il vendor sovrascrive la vecchia e quel telefono una volta resettato tornerà a prendersi la nuova quindi se ho un telefono Stun da tempo non ho problemi lo riprovvigiono come vuoi se ho un telefono nuovo o approvvigionato sempre in rete locale non ho problemi lo approvvigiono come voglio se ho un telefono approvvigionato Stun nelle ultime due settimane lo posso riapprovvigionare su un altro centralino solo se sarà a sua volta un interno remoto Stun ok eh ma cavolo io uso gli stessi telefoni muletti per fare le prove i miei tecnici vanno fuori una volta ogni due o tre giorni a spostare i telefoni da un cliente all'altro come faccio? Beh allora in quel caso è possibile che voi per i nostri partner aprire un ticket dicendo richiedo il rilascio del MAC address e mi fornite il MAC address del vostro telefono mi fate una foto del fondo del retro del vostro telefono nel cui sia leggibile lo stesso MAC address di cui state chiedendo il rilascio e io ho la possibilità a quel punto di scalare la cosa e di fare rilasciare anche all'interno delle prime due settimane ok vi avviso però che questa è una procedura che non faccio io tecnicamente manualmente ok è qualcosa che devo scalare dei miei colleghi e che possono avere tempi di risposta non immediati ok quindi se sapete che domani andrete a fare quel lavoro fatelo oggi perché se così andrà domani potrete usare il telefono non chiamatemi lì dicendo sono qua davanti al cliente per piacere rilasciami il telefono non ho fisicamente la possibilità di farlo ho una mia procedura interna nel quale ho qualche ora di tempistica ok quindi se non è tra l'altro nel momento in cui voi rilasciate un telefono non è che quello che è remoto smetta di funzionare cioè se io ce l'ho configurato sul cliente 1 e so che dopo domani lo devo portare sul cliente 2 e oggi chiedo il rilascio non è che se anche viene fatto oggi stesso il rilascio sul cliente 1 smette di funzionare no lui va a prendere quando è che lui va qua va qua solo quando viene riavviato ai reset di default va a fare questa richiesta quindi se il cliente 1 non lo resetta ma se lo tiene configurato come interno del suo cliente 1 il telefono continua a funzionare anche se è stato rilasciato ok quindi ricordatevi questa cosa due settimane nel momento in cui voi approvisionate un interno remoto Stun c'è un vincolo che a meno di una rottura manuale che richiede però può richiedere qualche ora da parte nostra resta valido per due settimane ok è chiaro perché questa è una modalità che semplifica enormemente scenari distribuiti come il piccolo ufficio con il centralino in cloud il telelavoratore la sede remota eccetera voi pensate che quel telefono non lo toccate neanche è veramente un grosso vantaggio se qualcuno di voi ha già fatto esperienza nella gestione dei centralini distribuiti sa che quello che vi ho descritto adesso è veramente un bel alleggerimento del carico di lavoro ok un'altra cosa molto importante allora innanzitutto il centralino il telefono remoto potrà avere lui stesso problematiche simili a quelle che poi abbiamo visto avere sul centralino stesso quindi verificate se presente la disattivazione del SIPALG lato sede remota ok eventualmente se non presente fatelo o se presente controllate il corretto NAT delle porte SIP ed RTP per ciascun IP privato di ciascun telefono in rete quindi capite che quando comincia ad avere 3, 4, 5 può essere un po' oneroso da fare in più cosa molto importante per tutti gli interni remoti STUN della stessa rete ok nel tab opzioni del proprio interno non del telefono nel tab opzioni dell'interno se voi scorrete il tab opzioni verso il basso troverete un checkbox che consegna audio PBX in italiano e dovrete dare attivarlo e dare ok il default è disattivo questo garantirà il fatto che i due apparati sapranno sempre dove trovarsi con lo scotto da pagare ne parliamo poi approfondiamo questa cosa anche fra un attimo con l'SBC che anche se io da una scrivania chiamo il telefono sulla scrivania a fianco io sono nella sede remota interno 1 chiamo l'interno 2 della mia stessa sede remota entrambi siamo interni remoti il mio audio comunque esce su internet raggiunge il centralino e viene reinoltrato via internet all'altro interno quindi uso internet anche per l'interno di una chiamata locale ora siamo due interni sto facendo una chiamata se ho una connessione internet che non mi consente di fare una chiamata a VoIP è tanto inutile che io faccia degli interni remoti perché comunque loro chiameranno anche se chiamano me o chiamano fuori useranno sempre internet quindi non mi pongo dei grandi problemi nello spreco di banda se parliamo su internet all'interno della stessa rete locale ok abbiamo detto due interni sono quattro interni vuol dire al massimo cosa fanno due chiamate ok e avrò una connessione da VoIP che mi dovrebbe gestire almeno due chiamate ok parliamo di qualche centinaio di k benissimo ho venti interni bene allora innanzitutto con venti interni la possibilità teorica è di dieci chiamate e dieci chiamate già sono banda che potrei evitare se si chiamassero tutti fra di loro ma poi vuol dire anche di avere dieci configurazioni sul server locale firewall locale porte locale da ricordare da aggiungere per evitare un carico di lavoro un pochino complicato a questo punto può essere opportuno passare allo step successivo di 3CX che è la configurazione tra di un SBC di cui parleremo adesso è tutto chiaro fino a qua? molto bene un istante solo che un istante solo benissimo mi do dei grandi feedback positivi quindi mi fa molto piacere spero di essere stati molto chiaro perché guardate che questo passaggio è uno dei passaggi tecnicamente più complicati quindi se sono riuscito a farmi a spiegarvi su questo aspetto mi fa piacere perché avremo risolto un sacco di potenziali ticket nel momento in cui doveste cominciare a lavorare con 3CX ok? no non facciamo un esempio perché vi sicuro che è come vi dico io voi avete un telefono risettato lo configurate come vi ho detto e vedrete che il telefono si avvia fidatevi fa veramente così anche perché ripeto non c'è bisogno di ulteriori di inquadrare un display di un telefono ciò che devo fare è andare sul mio centralino associare il MAC address marca e modello e firmware supportati e alla via di quel telefono vedrete che si vi comparirà con una schermata se cercate nella guida di ciascuno dei telefoni supportati vedrete lo screenshot di quella schermata nel quale vi verrà chiesto di inserire login e password login numero di interno password voicemail pin per entrambi i campi usate mi raccomando la tastiera in modalità numerica provare per credere come si diceva una volta ok dicevamo se ho approvvigionato due telefoni in una rete remota senza aumentare le porte devo modificarle e approvvigionare di nuovo il telefono assolutamente sì esattamente il Cisco come effettivamente fa notare il vostro collega non è supportato non essendo Cisco uno dei cinque brand che vi ho elencato vi posso confermare che non lo è tra l'altro tra l'altro il Cisco ha un'ulteriore limitazione chiedo scusa io tiro la tenda Cisco ha un'ulteriore limitazione in quanto il suo firmware o comunque non gestisce le connessioni HTTPS ecco perché non è possibile passargli un neanche manualmente ok neanche manualmente un provisioning link pubblico mentre se voi il Cisco lo potete approvvigionare anche per un interno locale andandogli a passare vatti a prendere il provisioning su 10.0.0.10 slash provisioning slash eccetera eccetera lo passate a mano nella sua casella lui se lo va a prendere se gli passate marcello.3x.it HTTPS marcello.3x.it eccetera eccetera il Cisco non è in grado di gestire connessioni HTTPS e quindi noi come 3CX non accettiamo connessioni da remoto se non in HTTPS ed ecco che neanche manualmente un Cisco può essere non solo non c'è l'RPS ma neanche manualmente può essere utilizzato con il provisioning 3CX come interno remoto se lo vado a configurare manualmente dovrebbe andare no no credo di sì in ogni caso non apritemi ticket o non fatemi domande come interno remoto proprio non è supportato ok mi risulta che andando a puntare all'IP alla porta e inserendo le credenziali in modo corretto vada mi risulta però poi può darsi ok bene parliamo adesso di un'altra modalità più semplice invece l'SBC Session Border Control perché tutto ciò che io vi racconterò nel prossimo quarto d'ora avvenga nella realtà sono necessari alcuni prerequisiti ad esempio io sappia come si fa ad approvvigionare un interno in rete locale abbia il firewall configurato per una gestione attraverso l'SBC l'SBC è un apparato 3CX quindi l'apparato 3CX necessita della porta HTTPS per tutte le informazioni necessarie che default è del 50001 ma quella che è stata scelta in fase di installazione in TCP e la porta tunnel per la vera e propria parte di telefonia che default 5090 in UDP e TCP quindi queste due porte devono essere aperte e correttamente innattate per i vari protocolli sul mio firewall ok in più il telefono che verrà installato nella sede remota a valle del mio SBC deve essere marca, modello e firmware supportati ok queste sono le condizioni iniziali bene a questo punto la procedura migliore qual è? io vado sul mio telefono sul mio nella mia rete locale e perché l'SBC richiede l'installazione e la configurazione di un apparato nella rete locale ok e vado a installare un apparato di mia scelta sulla piattaforma che mi ha scelto sul quale vado a scegliere un SBC in una delle tre distribuzioni ufficiali 3CX quali sono Windows già a partire da Windows 7 Service Pack 1 ok sempre a 64 bit Debian 9 o Raspbian che Raspbian non so se lo conoscete è il sistema operativo è una personalizzazione di Debian adatta a il Raspberry Pi che è un piccolo progetto open source è uno scatolotto trasparente che costa una cinquantina di euro credo su Amazon o siti simili bene chiedo conferma sul costo credo che uscirli fra i 50 e gli 80 euro o una cosa di questo genere ok il quale dovrà essere anche meno bene collegato nella sede remota ok e dovrà essere collegato e dotato di un IP locale della stessa subnet nella quale andrò a mettere poi i miei telefoni ok quindi io vado nella sede remota che magari è la sede dell'azienda se sto usando un centralino cloud perché in questo caso non è la sede essere remota è il centralino essere esterno vado nella mia sede aziendale invece di mettere lì un centralino in rete locale perché per vari motivi si è deciso di andare su cloud io gli vado a installare anche un mini PC Debian anche quelli da pochi decine di euro ok solo nella sede remota perché è in sede cioè dove sono gli interni che attraverso internet vorranno raggiungere il centralino il centralino può essere in cloud può essere presso la sede aziendale ma diciamo che è esterno alla rete presso il quale si trovano i telefoni ok in questa rete dovrò installare il mio SBC nella dotandolo di un IP della stessa subnet nel quale andranno a prendersi l'IP i miei telefoni ok se uso un apparato programma un PC un mini PC NUC o cose di questo genere dovrò anche stare attento a disattivare interfacce wifi ed essere sicuro di configurarli in modo da avere un unico IP configurato sulla scheda di rete ok un po' le stesse raccomandazioni che avevo detto quando se volete fare per il server su macchina dedicata ok la cosa simpatica è che questa l'SBC non risente assolutamente di eventuali connessioni su IP dinamico ok non è un problema suo mentre il centralino aveva degli effetti collaterali collegato dietro una rete con IP dinamico nel caso dell'SPC non c'è nessun problema ok posso installarlo anche su macchina virtuale purché aderente ai requisiti che ci siamo detti quindi una macchina virtuale un Debian 9 virtuale però deve essere in rete locale della sede remota ok con IP locale della stessa subnet presso il quale andrò ad accendere i miei telefoni della sede remota è chiaro? è chiaro? benissimo l'installazione è estremamente semplice alcune note sul numero di interni supportati allora sul nostro sito a questo link trovate le limitazioni hardware in generale una macchina entry level va abbastanza bene qui vedete una dichiarazione fino a un massimo di 50 interni quando si intende un IPC ok che sia piccolo ma dedicato fino a una cinquantina di interni se sto usando il Raspberry Pi meno massimo 20 interni ok ma io ho 80 interni nella mia sede remota allora potrei pensare di usare più SBC nella mia stessa sede remota due mini PC Debian da 40 interni l'uno però se ho 80 interni in quella sede non ho un'infrastruttura IT non mi conviene mettere lì un secondo centralino da mettere eventualmente in bridge con il mio centralino principale se è una sede remota in modo tale da renderli anche autonomi in caso di caduta delle linee dell'uno funziona l'altro cioè se ho una realtà così grande lo step successivo dall'interno remoto Stun SBC è secondo centralino in bridge va da sé se ho 80 interni di cosa stiamo parlando stiamo parlando di una media azienda italiana è sicuramente una realtà che ha una rete LAN e un'infrastruttura nel quale andare a mettere anche lì un mini PC con sopra un i3 e mettergli un suo centralino autonomo in collegamento bridge con la sede principale dell'azienda ho una struttura che è più ridondata più sicura più stabile che se qualunque cosa succeda sulla sede principale questa seconda rete sede da 80 interni continua a telefonare perché comunque è autonomo ok quindi l'obiezione è ma se io voglio avere dei centralini in cloud con 150 interni si può fare si può fare mettendo in parallelo magari più SBC però valutate oppure l'alternativa potrebbe essere quella di mettere una VPN fra la sede da 150 interni e il mio centralino remoto nel qual caso non stiamo più parlando di interni remoti userò una logica di interni interni LAN ok perché per quanto dovrò in quel caso dimensionare adeguatamente la VPN ci siamo capiti? le marche i modelli sono sostanzialmente gli stessi quando noi parliamo di telefoni supportati praticamente in tutti i casi sono supportati in tutti i nostri scenari quindi provvigionamento plug and play in rete locale Stun via RPS o remoti via SBC sono le nostre tre modalità di provisioning attenzione se io nel mio ufficio remoto ho due o tre collaboratori che usano però il client Windows o l'app su mobile su tablet eccetera non è necessario parlare di SBC perché comunque vada in quel caso gli interni useranno sempre la porta tunnel e comunque dialogheranno sempre con il centralino anche quando vogliono parlarsi sulla stessa scrivania quindi se ho degli interni 3CX client in tutte le sue piattaforme Mac Windows iOS Android l'SBC non mi porterà vantaggi mi porta vantaggi solo per i telefoni fisici ok e quali sono questi vantaggi i vantaggi sono il fatto che innanzitutto li trasformo in interni del mio centralino ma interni anche fra di loro cioè quando ho una chiamata di un interno dietro il mio SBC che chiama un altro interno dietro lo stesso SBC col fatto che loro si si approvvigionano attraverso l'SBC scusa perché le slide sono nuove ah non ho visto la slide ve lo dico fra un attimo col fatto che loro si approvvigionano passando attraverso l'SBC l'SBC è sufficientemente intelligente da riconoscere il fatto che l'interno 1 deve parlare con l'interno 2 ma ce li ha tutti e due a valle quindi cosa farà l'SBC manderà al mio centralino tutta la parte di segnalazione SIP il centralino comunque deve sapere che l'interno 1 è al telefono con l'interno 2 per esempio e renderli di nuovo liberi quando la chiamata viene interrotta e mi mettono giù le cornetta ma la parte audio della comunicazione che è quella dal punto di vista dell'impiego di bande e di dati più onerosa l'SBC se la tiene in locale facendo parlare direttamente l'IP1 con l'IP2 ok quindi ho un vantaggio a livello di utilizzo di banda in una struttura in una rete con 30 interni tutte le chiamate magari ho in parallelo 5 o 6 chiamate fra interni e quelle chiamate non mi andranno a saturare la banda e non mi lascerò la banda libera per le chiamate verso l'esterno o verso la sede principale per esempio ok ovviamente vengono comunque calcolate nel conto simultaneo di chiamate gestite dal centralino fa parte della segnalazione SIP ok ma come faccio ad approvvigionarmi abbiamo detto che io ho installato il mio centralino su una macchina Windows Linux o Raspberry all'interno della serete LAN della mia sede remota dopo averla installato e l'installazione è estremamente semplice compilo questo modulo e semplicemente inserendo l'IP locale l'FQDN del mio centralino la porta SIP la porta tunnel do ok dopo aver fatto semplicemente questo io vedrò che nella pagina telefoni io accendo il telefono nella rete locale ok che si va a prendere un IP della stessa classe dell'IP locale del mio SBC vi ricordate il discorso plug and play dove il telefono pediva al suo avvio dei pacchetti multicast che girano sulla rete nel quale annuncia il suo IP il suo McAdress eccetera questi pacchetti vengono mandati sulla rete LAN remota dove c'è SBC e telefoni è l'SBC che li intercetta l'SBC è collegato perché attraverso questa procedura lui si è andato a collegare con il mio centralino e gli va a passare incapsulandole nel tunnel della mia connessione le stesse informazioni l'effetto finale qual è? che sulla schermata di approvvigionamento mi compare in eretto il come se fosse un interno locale il telefono della rete remota la differenza lo noto perché invece di essere direttamente con il P locale con la riga dei telefoni new in eretto marca modello firme di P locale quello lì non è semplicemente un P locale ma è IP dell'SBC due punti P locale rete remota ok? ho due IP locali seguiti da SBC due punti di lettura perché c'è anche l'IP dell'SBC perché mi fa capire che è un telefono che è dietro un SBC e se avessi più SBC nella stessa sede remota potrei scegliere dietro quale SBC approvvigionarlo ma nella pratica che cosa mi succede? io vedo arrivare in eretto una stringa come se fosse un telefono in rete locale come abbiamo fatto la settimana scorsa la assegno ad un interno do ok e il telefono esattamente in modalità come se fossi un interno in rete locale col centralino si riavvierà e si prenderà tutto cioè funziona il plug and play provisioning come se si trattasse di un interno locale quindi ripetendo i vantaggi sono il fatto che risparmio banda per le chiamate fra intermi inteso gli intermi a valle dello stesso SBC quelle sono chiamate che non usano banda anche qui sui telefoni non devo fare niente perché i telefoni si accenderanno non devo accedere alla loro console si accenderanno verranno intercettati i loro pacchetti multicast dell'SBC che mi verranno resi disponibili sulla console del centralino e lì andrò ad assegnare quindi plug and play provisioning risparmio la banda non devo più fare tutto quel lavoro che vi ho anticipato essere necessario per gli intermi remoti STUN in quanto loro non richiedono l'utilizzo di mappature di porte SIP ed RTP dedicate per ciascun telefono loro si registrano in rete locale in SIP puro sull'SBC e l'SBC in pacchetta tannellizza tutto il traffico audio da e per questi telefoni l'unica connessione sulla porta tunnel default 5090 che ha aperto con il centralino in più è anche possibile a scapito di un dispendio di banda un po' più alto attivare anche un encryption tale per cui quindi anche il traffico fra interni attraverso rete internet fra gli interni della mia rete locale è crittato cavolo però bella sta cosa qua è utilissimo per tutti i miei piccoli centralini in cloud però cavolo già faccio fatica a fargli spendere ai miei clienti i soldi per la licenza del centralino che già lì magari è già gratis per la buona parte di loro ma chissà cosa devo spendere per l'SBC che fa tutte queste cose belle niente perché l'SBC è gratis e posso quindi attivare tutti gli SBC che mi pare gratuitamente no la lista degli interni è unica perché si parla di avere tutti gli interni dello stesso centralino quindi saranno univoci cioè non posso avere doppioni se ho un'esigenza di questo tipo valuterò la possibilità di avere un secondo centralino da mettere in bridge dove avrò tutti questi stessi vantaggi ma l'uso di dover avere due licenze ciascuno di quali però il proprio DB e i propri interni ok un centralino non ci possono essere più interni con lo stesso numero identificativo ok ah ecco una cosa importante il vantaggio il vantaggio del risparmio di banda ce l'ho se non ho attivo come è il default quindi se non è attivo il flag consegna audio BBX oppure se le chiamate non vengono registrate perché se io forzo l'audio a passare per il centralino cosa che devo fare quando ho interni remoti stun della stessa sede se invece vado a forzare questa cosa sugli interni SBC o vado a registrare allora forzo l'audio a passare anche l'SBC mi manderà l'audio sulla connessione perché gli attivo un setting che forza il telefono l'audio a passare per il centralino quindi il vantaggio del traffico audio ce l'ho solo se non sto usando queste due opzioni se ho due SBC sono i telefoni che decidono quale usare buona domanda no se io ho due SBC attivi dal mio stesso IP locale remoto chiedo scusa pubblico remoto io avvio il mio telefono nuovo dietro la rete dietro al quale si trovano entrambi gli SBC quando lui termina il suo avvio io mi sposto sul mio centralino e vedrò lo stesso telefono indicato due volte la prima con marca modello firmware IP centralino 1 IP SBC 1 due punti IP locale del telefono riga sotto stesse informazioni IP SBC 2 due punti IP locale del telefono a questo punto sono io che avrò tenuto nota quale SBC sta dietro l'IP 1 o l'IP 2 a decidere di assegnarlo in plug and play dall'uno o dall'altro il telefono si riavvierà mi scomparirà dal new e mi diventerà approvvigionato solo dietro a quello che ho scelto ok quindi lo potrò approvvigionare sceglierò io a quale e una volta approvvigionato se non lo vado a resettare e rifare la procedura mi resterà approvvigionato dietro quel SBC chiaro questo mi fa dire è una buona domanda perché mi fa aprire una piccola parentesi voi dovete considerare che il vantaggio soprattutto direttivamente all'audio che resta in là ce l'ho quando gli interni sono approvvigionati dietro lo stesso SBC facciamo un esempio la mia sede remota è un ufficio in una palazzina molto piccola su due piani ok io posso fare SBC piano 1 SBC piano 2 e metto gli interni del piano 1 dietro SBC piano 1 e gli interni del piano 2 SBC piano 2 ok perfetto ho due SBC 10 interni sull'uno 10 interni sull'altro perfetto ho fatto la cosa migliore probabilmente no perché perché gli interni di piano 1 si chiamano fra di loro non è detto magari sono due bisogna vedere gli interni dello stesso ufficio si parlano non si chiamano al telefono magari loro le chiamate interne le fanno principalmente con il piano di sopra ma essendo telefoni approvvigionati dietro un altro SBC il traffico comunque uscirà sul centralino per entrare sul tunnel per rifare il tunnel al contrario andare sull'SBC del piano 2 ok va quindi valutata la cosa e scegliere quali interni approvvigionare dietro l'SBC 1 e quali interni dietro l'SBC 2 su quello che è la base del loro telefono se ho il support manager e il brand product manager dello stesso prodotto uno è il piano 1 e il piano 2 e loro si chiamano varie volte al giorno per dire è arrivato il nuovo prodotto è pronto a che punto siamo con la cosa ti risultano problemi e perché il supporto è su un piano i product manager sono sull'altro ma il dialogo è verticale allora metterò quegli interni dietro lo stesso SBC ok e magari sull'SBC 2 ci metterò il collega del brand 2 che parla con il brand manager del brand 2 e creerò una specie di divisione a fette verticali non orizzontali avete capito l'esempio? cioè sceglierò nel caso dovesse avere più SBC quali interni approvvigionare dietro ciascuno di loro sulla base di quello che è il loro effettivo uso del telefono perché altrimenti rischio di avere degli interni remoti che comunque usano internet anche per parlarsi quando si parlano fra interni della stessa rete locale ok l'SBC si può usare anche per passare il centralino in cloud cioè immagino sì cioè è proprio fatto apposta cioè se io ho un interno in rete locale per scelte di qualunque tipo decido di spostarmi su cloud se ho una realtà con 30 interni sicuramente penserei di mettere nelle rete locale un un SBC faccio però una domanda perché è passata in cloud se l'avete già in rete locale dato che comunque richiederà un apparato in sede locale di solito lo scenario è la crescita è per la piccola realtà centralino in cloud quanti interni ha questa piccola realtà 2, 3, 4, 5 interni remoti Stun la realtà locale cresce 10, 20, 30 interni comincio a pensare di metterci un SBC magari più di un SBC in parallelo comincio ad avere 30, 40 interni ma li porto in casa il centralino io la vedrei così la crescita però in ogni caso nel momento in cui voi volete portare un centralino in cloud avete una sede con tanti interni della stessa sede sicuramente ci vorrà un SBC in quella sede ok le porte necessarie a questo punto diventano una sola porte e ecco nel momento in cui installo il centralino dovrò inserirgli login e password cioè la password del mio tunnel dove la trovo in impostazioni sicurezza tra CX tunnel c'è la password che è stata che è generata casualmente dal mio centralino in fase di installazione la posso anche modificare e quello è il campo che quindi dalla console di gestione mi faccio un bel copia e lo vado a incollare nel setup della mia installazione è più facile farlo che starlo a raccontare ok quindi se voi siete pratici di Linux ecco questo in effetti è quello che la vostra domanda è un è un ottimo punto in quanto più persone mi hanno fatto notare devo ammettere che è vero non c'è una lucina che riporta SBC on questo si vede dal di fatto i telefoni si deregistrano molto semplicemente quindi se l'SBC è attivo i telefoni vanno su ok in fase iniziale se sto attivando in generale si vede da determinati log ma molto semplicemente se il servizio tunnel è aperto l'SBC si registra ok ho spostato 3X in cloud e ho risolto il problema legato alla fibra timica e blocca bene l'alternativa poteva essere usare una porta diversa da 50-60 o comunque sul firewall dove ho SBC devo aprire qualche porta verso l'SBC in teoria no in teoria no perché il centralino usa l'SBC usa un socket in uscita che mantiene lui stesso aperto quindi deve essere in grado di raggiungere il nostro centralino quindi in teoria non è assolutamente necessario ok infatti non ne abbiamo parlato di firewall in questo caso quartiere giornale in Italia con 50 interni centralino in locale e base operativa immagino stia negli Stati Uniti con altri interni cosa suggerisci? 8 interni un SBC nella sede remota che possa puntare verso il centralino in Italia essendo però negli Stati Uniti quindi confuso orario festività realtà molto diverse nel momento in cui devo pensare di metterci un SBC un apparato in rete remota perché non ci metto un mini PC e un secondo centralino standard costo zero licenza gratuito per 16 chiamate è gratuito in ponte in questo mi consentirebbe di creare sul mio secondo centralino il 4 luglio il Thanksgiving Labor Day President Day eccetera eccetera tutte quelle impostate l'orario su fuso orario americano per cui loro alle 9 del mattino costa est eccetera io gli metterei un secondo centralino in ponte con la sede italiana sinceramente se fosse la sede una sede a Milano e l'altra a Busto Arsizio perché una è l'estabilimento produttivo e l'altra l'ufficio direzionale con gli stessi scenari direi SBC essendo così diversi a livello di nazione fuso orario festività set di linguaggi di sistema eccetera eccetera io penserei a un secondo centralino in ponte nei ponti se ne parla più avanti ma il vantaggio ho gli stessi vantaggi ma più modularità ok ah ecco nota importante il provisioning cioè il la richiesta che fa il telefono cioè lui mi compare in righetta nera nuovo telefono dietro l'IP dell'SBC lo assegno all'interno il telefono stesso quando va a prendersi il provisioning ci va lui autonomamente autonomamente andando sulla porta HTTPS del centralino default 50001 ecco perché devo tenere aperta anche quella porta ok quindi non è tunnelizzato il provisioning il provisioning è ufficiale il centralino va online si va su marcello.3x.it slash provisioning tra l'Italia eccetera e si scarica il suo file di provisioning quindi se ho chiuso la porta 50001 oppure ho fatto delle regole ACL sulla porta 50001 eccetera e non ho messo quelli PDI o rifiuto il collegamento non va oppure se ho un FQDN non affidabile o non valido il provisioning fallirà ok cioè l'SBC non mi solleva dall'onere e onore di avere un FQDN ufficiale perché comunque il provisioning avviene su internet pubblica all'interno dell'infrastruttura come ad esempio nell'esempio di due piani sono consigliabili switch con la possibilità della gestione del QA cioè il QAS non so se il quality of service per dare priorità al traffico poi allora sì sicuramente se riesco ad avere una gestione di questo tipo sulle mie reti interne molto bene però dovete cioè sapete quello che fate non chiedete a me di intervenire se l'audio si sente male io come ho detto in partenza nel corso base l'efficienza e la qualità della rete fanno parte della vostra sfera di competenza noi partiamo dall'assunto che 3CX viene inserito su una rete efficiente e perfettamente funzionante nel caso noi ci fossero problemi e noi da una cattura Wireshark si vede che vengono inseriti vi c'è latenza buchi eccetera non vi daremo consulenza nella risoluzione della problematica voce ok quindi mi raccomando se volete intervenire nella gestione a questo livello di qualità della rete benissimo però attenzione a sapere quello che fate perché non potrete nello specifico io ma neanche i miei colleghi in lingua inglese si potranno assistere nella soluzione di problematiche di questo tipo ok se qualcuno ha delle domande vi do due minuti solito stop bevo un bicchiere d'acqua e torniamo per l'ultimo modulo ok grazie a tutti 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 Grazie. Bene, non ho visto, vedo tanti complimenti, mi fa piacere, tanti segni positivi, non vedo domande, quindi proseguiamo. Anche oggi vi lascerò qualche minuto prima rispetto alle 16.30 previste. Parliamo adesso di uno scenario che di partenza è stato pensato ed è molto richiesto in un mondo dei call center di prima generazione. L'ho visto applicato e mi è stato raccontato di essere usato anche da altri tipi di scenari. Di cosa parliamo? Parliamo dello desking, cioè uno scenario in cui un telefono può essere a disposizione di più interni, uno alla volta, i quali facendo un login specifico sul telefono lo trasformano nel proprio telefono, salvo poi al termine di un turno di lavoro o del giorno o del periodo del fine contratto lasciare spazio a un altro interno che tramite un semplice codice lo trasformerà nel proprio interno a sua volta. Qual è lo scenario classico? Come dicevo, i call center di prima generazione che hanno delle postazioni di lavoro su cui gli operatori fanno turni. Quindi io arrivo dalle 8 alle 16, arriva l'operatore Marcello, si siede con lo spray, pulisce tutte le postazioni di lavoro, pulisce la cornetta, si mette lì, comincia il suo turno, fa un codice sul telefono e le chiamate dirette a Marcello cominciano a suonare. Alle ore 16 finisce il mio turno, spengo il computer, raccolgo le mie cose, pulisco la scrivania, codice ed esco. E lascio il posto libero a chi verrà dopo di me, che si potrà quindi sedere e fare la stessa cosa, sistemarsi, attivarsi il telefono come interno Mario e cominciare a ricevere telefonati come Mario. Quindi in un call center dove H24, in cui c'è la turnazione di operatori sulle stesse postazioni di lavoro, questa cosa è molto utile. Un altro, in realtà perché dicevo di prima generazione? Perché la stragrande maggioranza dei call center oggi attivi in Italia sono stati creati già nel mondo delle cuffie dei softphone. Quindi in questo caso il problema non si pone, perché faccio login sul mio profilo utente Windows e ho il mio client Windows, vado sulla mia pagina web del web client e faccio login con le mie credenziali e sono il web client. Quindi non uso, per questo tipo di aziende non usano un apparato fisico. In altre parti del mondo grosse infrastrutture sono state create all'epoca con quei telefoni e quindi è molto utilizzato. Se no, proprio come ha scritto il vostro collega in questo momento al chat, viene fatto quando si sceglie di avere dei telefoni, ci sono dipendenti itineranti che vanno su più sedi oppure dipendenti part time. C'è lo studio di professionisti che ha la postazione della reception dove c'è la mattina un'impiegata part time e al pomeriggio una seconda impiegata part time. Ecco che allora in questo caso attrezzi quella postazione con un telefono in modalità hot-desking. Quindi capite, di fatto c'è un passaggio in più, ma vale anche qui per i suoi telefoni supportati, ma è un pochino più oneroso, però quando c'è questa esigenza si riesce a fare. Un altro può essere un open space o un spazio di co-working nel quale uno si registra, ma oggi mi siedo qui, domani mi siedo di là. E ogni telefono dove vado, io gli offro fra i servizi, l'utilizzo della possibilità, affitti per i prossimi due mesi, una postazione di co-working presso la mia sede, il mio hub, il mio incubator, eccetera, eccetera. Siediti dove vuoi, se vuoi avere un telefono fisso, trova una postazione con il telefono fisso e digital codice tallitali. Quello per i prossimi due mesi sarà il tuo telefono ogni volta che vai. Ok? Ecco, una cosa importante, l'hot-desking non può essere scelto per scenari STUN, cioè vale per telefoni approvvigionati in rete locale o dietro SBC, ok? Non per interni remoti STUN, non è possibile fare hot-desking su interni remoti STUN. Devono essere telefoni supportati, stessa cosa di cui ci siamo detti fino adesso, devono avere il firmware già richiesto. Ecco, l'hot-desking non c'è per le licenze standard, ok? Quindi licenze o pro o enterprise. Come si fa? Se vi ricordate, allora non devo fare il plug and play provisioning subito, perché devo prima aggiungere il telefono a mano sul centralino per dirgli che questo telefono dovrà essere abilitato per l'hot-desking. Quindi, prima di fare qualunque cosa, vado sul mio centralino, ho la lista dei telefoni che voglio abilitare in questo modo, vado sulla pagina hot-desking, che è una voce specifica nella mia colonna di sinistra della mia console di gestione, e faccio aggiungi, e vado a scegliere marca, modello, MAC address, e scelgo se questo telefono che andrà a essere attivato in modalità hot-desking che sarà un interno locale o SBC del mio centralino stesso, ok? Dopodiché scelgo le varie impostazioni che posso scegliere su un normale telefono, quindi la lingua del display, il fuso orario, il formato della data, la suoneria, come se fosse il provisioning di un telefono normale, ed ho ok. Quindi non ho fatto il plug and play, ho preventivamente inserito a mano il MAC address di quel telefono nella lista dei telefoni che vorrò pilotare tramite hot-desking, ok? Adesso sì, ho già fatto questa operazione, posso accendere il telefono. Il telefono mi comparirà, ah ecco, a proposito, mi veniva chiesto come funziona l'SBC, qui vedete la schermata di un telefono che si avvia dietro l'SBC, vedete che alla voce IP c'ha il doppio IP, quindi l'IP locale via SBC con l'IP dell'SBC, ecco come compaia in meretto un telefono quando si avvia dietro un'SBC. Quindi se io voglio scegliere di usare, sarà una riga che se ho più SBC della stessa sede ne vedrò più righe relativa allo stesso SNOM 715 con stesso MAC address 0041, eccetera, via però dietro IP dell'SBC diversi. Io farò l'assegnazione dietro all'SBC che mi interessa e al riavvio mi spariranno le due righe nere e mi resterà solo fra i telefoni registrati quel dietro l'IP dell'SBC che volevo io. Mi collego. Ok? Quindi, ho già fatto la creazione del telefono sotto la modalità hot-desking, vado ad assegnarlo all'interno e do ok. Ok? E mi compare tra l'altro anche nei log del mio registro eventi il fatto che il telefono tal dei tali è stato assegnato in hot-desking all'itali interno. Devo ricordarmi che l'hot-desking di default non è attivo sugli interni. Ok? Quindi, se io voglio che l'interno Marcello possa fare hot-desking sui telefoni in generale abilitati all'hot-desking ok? E dovrò andare ad abilitarlo preventivamente. Ora, dopo che ho abilitato un telefono a Marcello in modello telefono attivo assegnato all'hot-desking abilitato assegnato all'hot-desking a Marcello e mi sono accertato che Marcello ha l'hot-desking abilitato il telefono si sarà avviato e ci avrà Marcello a display subito. Ok? Ma, da qualunque momento da quel momento in poi su qualunque telefono hot-desking Marcello potrà andare a effettuare il proprio login e quel telefono sarà a disposizione di altri utenti che hanno l'hot-desking abilitato. Chiaro? Quindi, vi devo semplicemente ricordarmi di fare un passaggio in più rispetto al semplice plug and play provisioning. Solo licenza non ho capito se è una domanda l'ultima comunque confermo che questa funzionalità è attiva è disponibile solo per i centralini con licenza pro ed enterprise. Ok. Come fa l'utente a fare login su un telefono? Allora, c'è un codice che il default è asterisco 77 asterisco ma lo posso modificare andando nell'apposita tabella dei codici di chiamate del mio centralino dopodiché io farò asterisco 77 asterisco numero del mio interno lui mi chiederà la password e qual è la password il voicemail pin che io so perché ho ricevuto nella mail di benvenuto del mio interno quando il mio interno è stato creato l'ho persa l'amministratore va sul mio interno lo seleziona e fa invia mail di benvenuto e ne viene mandata una subito nuova ok cioè viene rimandata la stessa perché comunque il voicemail pin è lo stesso ok quindi l'interno per poter fare ho desking deve ricordarsi come per l'improvviso in rps il proprio numero di interno e il proprio codice voicemail di accesso alla voicemail voicemail pin entrambi visibili sulla mail di benvenuto vado sul mio telefono sul quale voglio fare login faccio codice ho desking default asterisco 77 asterisco codice odesking seguito dal mio numero di interno e poi smail pin in sequenza avrò la possibilità di avere direttamente il mio centralino il mio telefono che si configura con il mio interno altra cosa la prima BLF del telefono viene se presente viene automaticamente configurata come funzionalità di logout in alternativa asterisco 77 asterisco 5 asterisco e viene fatto il logout automaticamente da quell'interno se però viene fatto un nuovo login il nuovo login forza il logout dell'interno precedente cioè se io mi dimentico di fare il logout e la lascio il mio telefono bloccato sul mio profilo chi viene dopo di me può fare direttamente il suo login e automaticamente spellerà fuori me ok evita di dover fare asterisco evita un passaggio ok questa cosa è gestibile da parte dell'amministratore si scusate vedo che c'è un errore di italiano forzare vuol dire forzare adesso lo vado a correggere come vi dicevo essendo il primo il primo passaggio di questo nuovo corso mi scuserete ma ci possono essere piccoli errori che magari hanno superato la prima revisione che ho fatto quindi adesso vedrò di correggerlo quindi l'admin può forzare il logout di un interno se viceversa per fine settimana o comunque decido di effettuare un logout di un interno ok bene per oggi abbiamo terminato abbiamo visto due funzionalità molto molto importanti che sono le possibilità di fare la configurazione in modalità quasi totalmente automatica per interni remoti esterni alla rete del mio centralino che siano in modalità STUN quindi gli interni stessi che vanno a registrarsi direttamente via internet sul centralino oppure tramite l'interposizione di un apparato da noi chiamato SBC vi ricordo che noi facciamo solo il software l'hardware sul quale andare a installare l'SBC ce lo dovete mettere voi non esiste hardware marcato M3CX ok quindi voi sceglierete la piattaforma l'ambiente su cui vi trovate più a vostro agio su quello metterete l'SBC e nella rete locale nella stessa samnet nel quale andrete ad attivare i telefoni della mia sede locale della mia sede remota e quei telefoni compariranno in eretto nella mia pagina telefoni del mio centralino e trasformerete il provisioning di una realtà dall'altra parte del mondo nella facilità nella tempistica del provisioning interni in rete locale se non ci sono altre domande oltre a complimenti e se volete vi mando l'Iban per un bonifico no vi scherzo allora M3CX è una cosa curiosa no è un nome scientificamente scelto per cercare di essere orecchiabile che ribandi a successo e che iniziando con un numero figuri in testa in tutti gli elenchi telefonici o pagine web o list di prodotti quindi voi potrete fare OneCX però in realtà il fatto che il fondatore aveva già fatto una realtà che si chiamava perdonatemi il mio nome iniziava col 2 è passato la sua terza azienda è partito col 3 il not-desking è possibile questa è una buona domanda inibire il logout sicuramente no forzare il login io mi aspetterei di sì perché è una caratteristica dell'interno quindi sinceramente io non ho un telefono not-desking sul quale fare le prove ma una volta che il telefono registrato in not-desking è l'interno essere logato nella coda non è il telefono quindi io non vedo per quale motivo non dovrebbe essere possibile non l'ho mai provato la prima volta che mi viene chiesto come vi dicevo io l'oddesking in Italia non l'ho praticamente mai visto utilizzare se non in casi particolari comunque non mi aspetterai senz'altro di sì in quanto è all'interno che si registra la possibilità la possibilità di essere utilizzato è il telefono stesso come apparato che viene riciclato ma il login e il logout nella coda è una caratteristica del mio interno ok bene domande se la mia rete locale dove l'IP è centralino è 192 168 1 100 la sede remota ha l'OSB immagino sia l'SBC con i P sì va bene cioè l'SBC deve essere nella stessa subnet cioè allora non i tele a me quelle che sono le classi dell'IP della mia rete remota non c'entrano nel mio centralino non gliene frega nulla ok nulla io posso avere il centralino nella 192 168 e la rete remota in 10 100 ok non mi interessa l'importante è che nella sede remota telefono telefoni ed SBC siano nella stessa subnet altrimenti ricadiamo nel caso già esaminato durante il corso base per cui i pacchetti multicast sparati dai telefoni al loro avvio non vengono recepiti correttamente dall'SBC e quindi non funziona il plug and play ho dei telefoni remoti approvvigionati tramite HTTP può dar non saprei quale non dovrebbe essere possibile in teoria io in teoria i link in HTTP non dovrebbero essere accettati del mio centralino se non sono in una VPN non non lo so non so come sia possibile è buon per voi se ci siete riusciti di sicuro non è la teoria e per quello che ho visto neanche la pratica la porta 5000 che è il link HTTP o quello che è stata scelta non accetta collegamenti provenienti dai più pubblici il web server non fornisce i dati quindi come abbia potuto approvvigionarsi con un provisioning link in HTTP da remoto le nuove versioni se stiamo parlando di vecchi centralino è un altro discorso ma le nuove versioni sinceramente mi sfugge che vorrei sarebbe simpatico approfondire questo perché sinceramente non mi risulterebbe possibile comunque quando un utente si scollega dalla coda non c'entra nulla con l'argomento in esame io vi invito a fare le domande relativamente alla coda comunque fammi verificare perché ci sono una serie di notifiche le notifiche della coda avvengono quando un manager viene perso una chiamata o quando viene fallito il callback o quando non è previsto per il logout degli utenti non c'è questa questa media notifiche bene altre domande non so i pacchetti i pacchetti multicast quindi io in generale cioè se ho io posso posso scegliere se ho un telefono una sede remota dove ci sono due centrali due interni sono due scelgo di andare in stun benissimo li attivo in stun la sede la sede remota aumenta di organico e mi diventano otto arrivo a un certo punto durante la quale guarda sono troppi decido di passare su un sbc nel momento in cui attiverò l'sbc dovrò resettare e riapprovvigionare tutti i telefoni ok in questo senso forse cioè quindi se volete attivare un sbc cominciate da lui in questo senso sicuramente la sequenza è quella forse era questo il senso per cui dicevo di installarlo dall'inizio per la reportistica un attimo solo guardiamo quando se ne parla perché può darci che ci sono alcuni argomenti a volte non sono neanche non sono tradati tutti nel nostro corso potrebbe anche essere che mi dovrai aprire un ticket se hai delle domande specifiche te lo dico secondo me non fa parte te lo dico ma direi di no direi che di reportistica non se ne parli specificatamente neanche anche nell'avanzato no in realtà non c'è un modulo che parla specificamente di reportistica quindi se hai puoi farmela adesso ma se se dovesse essere una domanda un po' complicata ti chiederò di aprirmela in un ticket specifico no no mi riferisco a fatto che non vi è necessario di differenziare la porta 5090 ok bene signori io vi saluto vi ringrazio è stato spero interessante domani chi di voi dovrà esserci vedrà l'ultima parte vedo che c'è un'ultima domanda e poi vi chiudo finiti i vostri saluti che me la fanno perdere se ho un centralino svc no questo l'ho già visto cloud con 8 sedi remote e 2 postazioni l'uno conviene installare in svc in ogni sede 8 sedi remote e 2 postazioni l'uno no puoi andare anche in stun l'importante è che per ciascuno degli 8 degli 8 telefoni delle 8 sedi i due interni ti ricorderai di incrementare il range di porta RTP può darsi che tu debba intervenire su 8 firewall locali ma con relative regole di NAT dipende da come sono le reti locali o se no installi 8 sbc però diciamo che non è un requisito con questi numeri puoi tranquillamente fare anche con gli stun l'sbc hai più hardware da attivare hai una netta semplificazione del della gestione del network a livello della gestione del firewall e sei scalabile nel senso che cominciano ad entrare il terzo quarto interno della tarrete eccetera beh nel momento in cui lui attacca il telefono alla sua rete lo vedi in eretto e lo assegni diventa molto più facile anche scalare verso l'altro quindi hai più scalabilità vantaggio di vantaggio di rete e facilità nel provisioning ecco questi sono i vantaggi dell'sbc con lo scotto da pagare di avere più hardware da mettere in campo dall'altra zero hardware però più lavoro a livello di configurazione e possibili blocchi a livello di firewall delle sedi locali ok però come i numeri vanno bene entrambi non c'è un problema di nuovo grazie a tutti voi buona serata e spero di vedervi vedervi domani di nuovo a presto grazie a tutti grazie a tutti